Caritas e Coppe di Gubbio insieme per le famiglie in difficoltà. Lo scorso 12 settembre ha avuto luogo la raccolta di materiale scolastico nell'ambito della campagna Copp dona la spesa. La colletta scolastica, un'esperienza nuova ma di grande successo, è nata dalla collaborazione tra il punto vendita della Copp Centro Italia di Gubbio, la Caritas Diocesana di Gubbio e la sezione Soci Copp di Gubbio e si è protratta fino al 19 settembre, ad essere donati circa 1230 prodotti, tra i quali 600 quaderni, 180 confezioni di penne e matite, 140 di colori, 30 albumi da disegno, 10 zaini, materiale per il disegno tecnico e altri prodotti di significativa utilità. Considerando anche il momento che abbiamo vissuto e stiamo vivendo e che ha aggiunto difficoltà a quelle che molte famiglie già avevano, ci è stato proposto questa raccolta, diciamo, più insolita e le persone hanno risposto bene, quindi sono stati donati oltre 1200 articoli di materiale scolastico, un po' di tutti i tipi. Siamo rimasti veramente soddisfatti, anche se le persone lì per lì, non essendo mai stata fatta, capivano bene che razza di raccolta era. E quindi ecco, vorremmo ringraziare veramente sia Coop Centro Italia, il supermercato di Gubbio, la sezione soci che comunque ha anche partecipato al momento di sensibilizzazione che veniva fatto alla debita a distanza, all'ingresso del supermercato, e tutte le persone che con molta generosità hanno partecipato. Il materiale è ora in corso di distribuzione presso il centro di ascolto della Caritas di Ocesana e presso la sede della sezione di Gubbio della Croce Rossa Italiana, punti di riferimento per le famiglie bisognose del territorio, purtroppo in aumento anche a causa della pandemia da coronavirus. Chi non ha fatto in tempo a partecipare alla prima raccolta, ma vorrà dare il proprio contributo, avrà modo di farlo nella prossima colletta, fissata per il 17 ottobre, presso il punto vendita Coop di Gubbio. Una giornata di raccolta di genere alimentari di prima necessità. Per quanto riguarda la raccolta di prodotti alimentari, sempre in collaborazione con Coop, verrà fatta sabato 17, quindi per tutta la giornata sarà possibile donare prodotti a lunga conservazione che poi verranno specificati da manifesti messi all'ingresso del supermercato. Questa è un'opportunità che ormai da diversi anni la Coop ci dà, insieme alla sezione soci. Ringraziamo anche in questo caso in anticipo tutti quelli che vorranno donare quello che potranno.